Ben ritrovati ragazzi, ok, un po' di chiacchierine oggi, non abbiamo in realtà un argomento da sviscerare ma abbiamo tanti piccoli indizi qui e lì da cercare di rimettere insieme in un agglomerato solido e vedere poi dove ci porterà al termine della stagione, perché anche ieri no? No, ieri ho fatto due live nel pomeriggio, dopo avervi portato il video in cui vi parlavamo della squalifica di Pogba, d'accordo però il confronto io credo che sia sempre molto molto importante e interessante, e avendo parlato con alcune persone come Davom sul canale di BoboTV Channel, oppure dopo sono stato ospite dai ragazzi di Lab Bianconera, quindi Fabio, Virmone, Kraft, e abbiamo fatto un po' di ragionamenti partendo anche proprio dal discorso relativo a Pogba e cercando di ampliare a tutto il mondo Juve, io ieri ho detto una cosa che, passatemelo, è un po' cattivella, perché mi rendo conto che sia un po' cattivella, però credo che riassuma perfettamente il momento della Juventus attuale e di riflesso di quello che sarà il futuro della Juve, perché io voglio immedesimarmi in Cristiano Giuntoli. Ieri Giuntoli legge la notizia, insieme a noi Pogba ufficiale squalificato 4 anni, poi Pogba farà ricorso, certo, indubbiamente, la squalifica è maxirecord di sempre, quindi lui non può non far ricorso perché se sta parlando della sua carriera lo dovrà fare, e aggiungo io, giustamente, anche al fronte di una leggerezza imperdonabile per quei livelli lì. Va sottolineata, evidenziata, questa cosa è messa in primo piano, pinnata in alto. Però io mi immedesimo in Giuntoli. Leggo la notizia, Pogba ha squalificato 4 anni, e cosa dico se sono Giuntoli? Perché se sono Giuntoli io dico una cosa, ripeto, in maniera cattiva, siccome in maniera veritiera. Fiu, tiro un sospiro di sollievo. Non tanto per Pogba uomo, non tanto per Pogba calciatore, il cui livello è altissimo all'interno della Serie A, a condizione che stia bene fisicamente, ma per un discorso relativo alla progettazione, alla programmazione. Perché? Perché ragazzi, avere una Juve come in questo momento, in cui soldi sembrano non essercene al momento, se poi cambierà qualcosa con aumenti di capitale, mercato autofinanziato, cessioni eccellenti, non lo so. Però oggi Cristiano Giuntoli, che ripeto, per me all'anno zero la Juventus, perché entra Cristiano Giuntoli, qualcuno mi ha detto, anno meno uno, chiamatelo come volete. Sicuramente è la prima annata di una dirigenza sportiva che non ha messo a mano, e quindi siccome dopo gennaio è l'anno 0.5, perché c'è stato un mercato fatto da Giuntoli, ed è un mercato diverso rispetto a quelli degli anni scorsi. Però arrivo, mi danno in mano questa roba qui, e mi dicono, bene, adesso sei tu che la gestisci, la parte sportiva della Juve, quindi allenatore, quindi acquisti, mercato, bla bla bla. Questi però sono dei paletti, a livello economico, salariali, che dobbiamo rispettare. Allora, io vado a vedere quelle che sono le voci dei giocatori che mi guadagnano di più, e dico, cavolo però, dentro la Juventus ci sono due, tre, quattro giocatori, cinque giocatori, che dal punto di vista salariale sono impattanti. Pogba, Aleksandro, stesso Scesni, che andrà in scadenza a 25, e si cercherà di rinnovarlo dopo il nuovo automatico dell'anno scorso. Rabiot, che va in scadenza a 24, però sono tutti elementi che dal punto di vista salariale vanno a occupare la casellina. Poi ragioniamo sul punto di vista sportivo, delle prestazioni, dell'utilità, e allora vi dico che Rabiot l'anno scorso è stato eccellente, quest'anno un po' sotto tono, Scesni, comunque da anni, è un punto di riferimento per lei dal punto di vista delle prestazioni. A differenza di Aleksandro, che non può guadagnare quei soldi in relazione a quello che mi offre, input-output, e Pogba, beh, è inqualificabile, ragazzi, quest'anno ha giocato 52 minuti e poi è stato squalificato. L'anno scorso non si è voluto operare, ha perso la stagione. I soldi comunque sono quelli, ed è brutto parlare di soldi, perché quando parli di soldi e vai a toccare le professioni è sempre brutto, però il dirigente deve ragionare prima che lavorare, ragionare in maniera cinica. Mi dai a disposizione questo budget per fare la squadra? Cavolo, Pogba e Aleksandro mi occupano quello spazio lì, cavolo, Rabio e Scesni, quell'altro. Se da una parte, per l'impatto che hanno in campo i Rabio e Scesni, posso farci un pensierino, dall'altra Pogba e Aleksandro mi pesano. Sono un vero e proprio peso, no? E adesso ho preso in considerazione quattro, che sono quelli con gli stipendi più alti. C'è anche Vlaovic, che mettiamo nella direzione di Rabio e Scesni, dal punto di vista del salario, dal punto di vista di quello che ti dà. Ci sono breme e richiede, ce ne sono tanti, però poi devi sempre rapportarli a quello che ti danno. Ma Aleksandro e Pogba, io sono convinto che Giuntoli, arriva, guarda e dice, cavolo però, l'anno prossimo devo fare il mercato e quello spazio salariale lì rimane lì, se io voglio prendere Alcaraz e quei 50 milioni di Alcaraz tra l'ingaggio e il riscatto e poi magari vado a trattare, 50 diventano 40 o 35 se sono particolarmente bravo, è bloccato da quei soldi lì di Pogba o quei soldi lì di Aleksandro perché dal punto di vista economico poi vanno a prendere... Per me Giuntoli ti ho un sospiro di sollievo. Pogba non è una scelta di Giuntoli. E quando gli rivede quattro anni di squalifica e sa che dal punto di vista economico e quindi progettuale va a liberare quelle risorse per me ti era un grande sospiro di sollievo. Perché sa che non è più legato a quella che è una scelta della precedente gestione. E qui torniamo un po' al discorso che vi sto facendo da qualche settimana perché io ribadisco ragazzi ma se incontro per strada Giuntoli e se io stamattina esco di casa vado al bar, prendo un caffè trovo Giuntoli per strada e ci faremo a fare due chiacchiere e gli chiedo ma come ci stiamo mettendo a posto per la prossima stagione come stiamo ragionando e magari lui mi dice no ma guarda sull'allenatore noi non ci abbiamo ancora pensato arriviamo alla fine dell'anno e poi decidiamo. Che è un po' il ragionamento che ci ha fatto Giovanni la percezione e la raccolta delle informazioni di Giovanni va in quella direzione. Che sicuramente sarà la direzione della Juve. Ci credo al 100%. Ma neanche se me lo dice giunto l'impersona ci credo questa roba qui. Perché la Juve è un'azienda e le aziende devono stanziare prima di tutto dal punto di vista economico degli spazi. L'ingaggio di Allegri è elevato è impattante e soprattutto non è stato scelto da Giuntoli. Questa è la prima cosa che continuo a dire da tempo. Lo dicevo anche l'anno scorso. Poi Giuntoli è arrivato che Allegri era già stato confermato per ragioni meritocratiche per ragioni di fiducia per ragioni legate al contratto per ragioni legate al momento della Juventus tra extra campo e campo boh io questo non lo so non sono nella dirigenza della Juve non ve lo so dire. Però anche se me lo dice Cristiano Giuntoli in persona non ci credo perché la Juve per forza di cose sta già iniziando ma non dico neanche a ragionare come la Juve ha già deciso dentro la stanza dei bottoni che cosa fare l'anno prossimo con Allegri se andare avanti con lui o se cambiare allenatore poi non so se han deciso il nuovo allenatore nel caso di cambio non so però quello lo devono aver deciso neanche se me lo dice Giuntoli in persona ci credo è per quello che vi dico stiamo molto 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 attenti a seguire gli sviluppi che devono essere puramente orientati verso Giuntoli perché Giuntoli è l'uomo chiave della Juventus in questo momento è il responsabile dell'area sport dal punto di vista delle decisioni non può venire meno la figura di Giuntoli poi ci sono altre figure dentro la Juventus che in questo momento sono rimaste da quando è stato inserito il nuovo CDA e che forse sono dormienti e arriverà il momento di parlare di altre figure all'interno della Juventus ma Giuntoli è una figura troppo impattante poi magari Giuntoli ha deciso di rinnovare Allegri io non sono qui a dirvi che Giuntoli lo manderà via cercate di capire però ragazzi quando inizi un nuovo progetto e ti trovi in mano delle decisioni dal punto di vista sportivo principalmente di altre gestioni Allegri Pogba e determinati giocatori potresti non essere d'accordo quindi tutti i giocatori che sono stati rinnovati è perché Giuntoli comunque è arrivato alla conclusione che nella Juve del futuro servivano titolari o riserve o prime riserve quello che hanno in mente loro quindi Bremer quindi Locatelli quindi Gatti e i rinnovi che sono stati fatti però attenzione perché quando cambia le dirigenze ed è per quello che insisterò sempre sul punto e mi ha stupito che tanti non siano d'accordo con l'anno zero ma facciamo così è il primo anno di Giuntoli quindi io dico 0 per 05 meno 1 chiamatelo come volete ma la Juventus sta seguendo un percorso differente rispetto al passato perché sta facendo delle scelte in controtendenza rispetto al passato banalmente un anno e mezzo fa arriva un Pogba e Di Maria con la speranza io uso il termine speranza che questi due giocatori di esperienza con il palmarès che è di tecnica due spanne sopra dal punto di vista sportivo rispetto a tanti altri calciatori in Serie A possano cambiare la Juve non basta solo quello non basta più solo quello a meno che non li inserisci all'interno di contesti già rodati la Juve l'anno scorso era un contesto rodato ma proprio manco per il C proprio manco per il C e dal punto di vista dell'organizzazione e della programmazione giuntoli è in controtendenza a quella che era stata la precedente gestione che Rubini arriva bene per quanto che Rubini sia stato secondo me molto impattante in quello che è la Juve di oggi che sarà la Juve del domani perché il progetto Next Gen è una cosa a cui Rubini ha lavorato fortemente con forza ed energia negli anni quindi non andiamo a maledire tutto quello che è stato il passato anzi tra Cherubini e Tognozzi diciamo che la Juventus ora può godersi qualcosa di importante che è un po' il salvagente della Juve al momento avere dei giocatori che sono qualitativamente elevati che altre squadre non possono avere così tanti giocatori anche se il percorso di crescita è in altre squadre io quando leggo che Sule può essere un tesoretto impazzisco e ve lo dice uno che tutto l'anno scorso vi ha sempre detto io in Sule fino adesso fatico a vederci qualcosa ecco una stagione in provincia e che stagione è Sule la differenza in Serie A te la fa te la fa anche con la maglia della Juve boh se mi dai la possibilità non lo scopri ma se devo venderlo perché così guadagno dei soldi che posso dare a un altro che magari viene qui come è stato Pogba come è stato Di Maria per quello che è il nuovo progetto della Juve io vi dico assolutamente no non lo farei andrei piuttosto a lavorare su quello che già ho e che può diventare un giocatore su cui investendo tempo e pazienza diventa magari non Dybala magari non Messi magari non Di Maria per pensare a degli argentini offensivi mancini però può diventare Sule può diventare Sule e vediamo se Sule eventualmente sarà un nome da Juve dico Sule ma ce ne sono tanti posso dire Ildis che è comunque dentro la Juve posso dire Fagioli che tornerà dalla squalifica a proposito di scelte non proprio condivisibili dell'extracampo quindi io vi dico se penso al futuro della Juve io sono molto tranquillo però per essere molto tranquillo bisogna passare dalle mani di Cristiano Giuntoli dalle mani della gestione di Cristiano Giuntoli che avrà necessità magari di volere purare quella parte di Juventus che era stata scelta dal precedente CDA dalla precedente gestione quindi Allegri arriva tre anni fa ed è una decisione di Andrea Agnelli Agnelli non c'è più la Juve Allegri in società ancora degli appigli e continuiamo a sentire che c'è la fiducia ma ci mancherebbe altro che Giuntoli vada a dire il contrario ai microfoni però secondo me anche ieri il discorso dell'attiva Pogba per Giuntoli è un gran sospiro di sollievo fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e domani mentre sarò a Roma per la finale di Youtuber League anche se non potrò giocarla parleremo anche di Napoli-Juve perché ce l'ha a parlare dato che sarà vigilia ci sarà la conferenza stampa un Napoli-Juve che è tosto per la Juve perché il Napoli sembra aver ritrovato certezze soprattutto per il momento della Juve la Juve non è uscita dalla crisi nemmeno con la vittoria col gol di Rugani al 95esimo perché è ancora tutto in discussione ciao ragazzi